Chi abbiamo al tavolo con noi? Abbiamo l'onore, il piacere, il privilegio di avere Bjorn Larsson. Com'è che parli così bene l'italiano? Potrei dire che sono intelligentissimo. Si lo sei, certo. Ascoltavo la radio la sera. C'era sempre una partita di calcio. E dopo questo c'era un programma che si chiama Uomini e Camion. E dopo questo c'era 5 minuti della vita di un santo. Dunque poteva parlare di calcio, di camion e di santi. Ti ha mai spezzato il cuore qualcuno? La risposta è no. Cosa significa per te casa e qual è il tuo concetto di casa? La casa non significa quasi più niente. Geograficamente, però anche mentalmente, la casa non esiste. Ma dove vivi in Italia? Si chiama Sedrano, è un buco nero vicino a Milano, un piccolo paese di niente. Non c'è neanche la piazza centrale. Mi sono detto, che cazzo fai tu qui? Oh, gridolini!